Sabato prossimo 26 novembre la città di Favara scenderà in piazza per la sabaguardia del proprio centro storico. La manifestazione è stata indetta dall'amministrazione comunale allo scopo di tenere alto il livello di attenzione dei media nazionali sul problema. Alla giornata di mobilitazione il sindaco Manganella ha invitato le forze sociali presenti sul territorio. L'ambio vecchio nucleo abitativo di Favara dal 23 gennaio 2010 è salito diverse volte agli onori delle cronache sia per i casi di crolli che per l'allarme sociale derivante dalle ordinanze di sgombero emesse per ragioni di sicurezza. Ieri abbiamo avuto il piacere di incontrare il presidente della regione. Abbiamo noi posto il problema del centro storico che per la verità l'onorevole Lombardo conosceva bene per essere stato qua negli anni scorsi e ha seguito attentamente gli sviluppi della vicenda. Ci è stato detto che nel passato non è stato potuto fare nessun intervento da parte della regione perché mancavano delle proposte in dal senso e quindi si rammaricava di questo e si è detto comunque disponibile a venire incontro alle esigenze e alle richieste che noi abbiamo avanzato. Io mi sento soddisfatto di questo tipo di incontro ringrazio pubblicamente il presidente della regione e il suo staff. Tuttavia abbiamo stabilito di non allentare la tensione sulle questioni del centro storico perché vogliamo che si faccia di questo una iniziativa a più largo respiro che coinvolga non soltanto il comune di Favara ma tutti i comuni che hanno difficoltà con il centro storico e nella nostra provincia sono tantissimi. Allora proprio per tenere alta la tensione attorno al problema abbiamo deciso di organizzare per sabato 26 una manifestazione speriamo di popolo perché noi la vogliamo molto partecipata. Coinvolgeremo le scuole della nostra città, i cittadini e non solo quelli ovviamente che sono interessati oggi agli sfratti per necessità. Garantire subito un alloggio agli sfollati ed accelerare l'iter di assegnazione dei 56 alloggi popolari di contrada a Piana dei Peni a Favara che consentirebbero una boccata d'ossigeno per quelle famiglie che attendono la casa da circa 10 anni e l'impegno assunto dal sindaco Rosario Manganella. Quest'ultimo dopo le rassicurazioni avute a Palermo dal governatore della regione Raffaele Lombardo ha effettuato stamattina un sopralluogo negli edifici di edilizia economica popolare di Via Cicero e di Francisca. Ricordiamo che la graduatoria di assegnazione degli alloggi è momentaneamente ferma a 53 pratiche istruite, di conseguenza rimangono tre i destinatari da inserire nella graduatoria definitiva. Intanto i lavori di ristrutturazione delle case pesantemente vandalizzate, a detta del sindaco, proseguono e probabilmente entro la fine del prossimo mese di febbraio e inizi di marzo si porteranno a conclusione. Siamo ormai agli sgoccioli di una vicenda che si è protratta per lunghi anni. Proprio stamattina io ho fatto un sopralluogo con la ditta e abbiamo visto che gli appartamenti sono quasi tutti completi e in ogni caso saranno consegnate al comune di Favara entro la fine di febbraio e oppure entro il 2 di marzo. Proprio questa è la scadenza massima, la ditta ci ha assicurato stamattina che i lavori saranno regolarmente consegnati addirittura forse con qualche giorno di anticipo. Le graduatorie sono pronte? Le graduatorie sono già pronte nel senso che sono state già individuate le prime 53 persone alle quali assegnare l'alloggio popolare. Ne rimangono ancora altri tre. La graduatoria adesso riprenderà ad essere attenzionata da parte degli uffici e proprio domani mattina abbiamo fissato qui a Palazzo di Città una riunione con i responsabili della Commissione, con i responsabili soprattutto dell'Ufficio Alloggi Popolari in presenza tra l'altro del segretario generale. In quella sede noi dobbiamo affrontare questo problema e dare dei tempi strettissimi ormai alla Commissione per completare i lavori.